Il giorno dopo le polemiche sollevate dall'opposizione risponde sulla vicenda il sindaco di Montevarchi, Chiassai Martini. A riguardo infatti della terra che è stata gettata all'interno delle fontane di piazza Donatori di Sangue a Montevarchi, la piazza della stazione, il PD si è scagliato contro l'amministrazione comunale accusandola di non aver avvertito nessuno di questa scelta che a quanto pare poco piace ai dem Montevarchini. Il sindaco in queste ore con un comunicato ha risposto motivando la scelta come un risparmio per le casse comunali e come un miglioramento del decoro urbano rispetto al passato, ma non solo. Il progetto di riqualificazione delle fontane che diventeranno entro pochi giorni delle fioriere è stato proposto dall'amministrazione ma ha portato avanti dai privati. Sono quattro gli imprenditori della zona che hanno messo soldi per creare queste piccole aree verdi e che pagheranno fino al 2021 la manutenzione di esse. Un modus operandi fra privato e pubblico che ormai è un classico del sindaco Chiassai Martini ma che comunque nei mesi ha portato anche in altre zone della città i suoi frutti. Il primo cittadino inoltre ricorda come il comune si era interessato per ripristinare le vecchie fontane mai del tutto funzionanti al 100%. Il preventivo però per i lavori era di 50.000 euro, troppo per le casse comunali. Inoltre le fontane avevano un costo di gestione annuale di 7.400 euro per l'energia elettrica e 5.000 per la manutenzione ordinaria delle vasche. Entro una settimana le fioriere saranno concluse dunque e molte sono le essenze che vi verranno piantate come 140 piante di rosmarino, 180 di rose e altre di vario genere. Già realizzato l'impianto di irrigazione i lavori per la realizzazione di questa nuova scenografia per la piazza vanno avanti. Intanto sorte simile tocca ad un'altra fontana della città poco distante. È quella di piazza Vittorio Veneto che non in funzione da molto tempo non sarà riattivata e anzi sarà lasciata così com'è per i costi elevati che comporterebbe la risistemazione dell'impianto. Anche questo un progetto nato male che da sempre ha funzionato a singhiozzo.